Buongiorno, sono Dio e vorrei lanciare un appello per tutta l'umanità. Signori e signore, trovatevi una passione e andategli appresso fino in fondo. Vabbè, non so credibile com'è Dio, con questo accento meridionale, che non si capisce nemmeno di che meridione è. E allora lo dico, io sono nato in Basilicata. Sì, la Basilicata esiste. Esiste. È un po' come il concetto di Dio. Ci credi o non ci credi. Io credo nella Basilicata. L'ho vista. Era notte. Diciamo che l'ho intravista. Una grande Basilicata. Una regione che, sotto l'aspetto della depressione e della disoccupazione giovanile, non ha niente da invidiare a Puglia, Sicilia, Campania e Calabria. È solo che non c'è la mafia. Ma dateci la nostra fetta di mafia. La Basilicata ha bisogno di casino, agriturismi, prostituzione. Ma mi fanno segno che sta per cominciare la cerimonia, solo il tempo di presentare questi musicisti. Io mi chiamo Nicola Palmieri. Al contrabbasso Franco Cardillo. Alla chitarra Salvatore Chiarelli. Al fodero della chitarra eccezionalmente con noi Rocco Santa Maria. Alla chitarra Salvatore.